va bene allora come dice che siamo online e come dice che siamo trasferenti perfetto allora cosa abbiamo deciso di fare abbiamo fatto su tavola superiore è inutile andare la base subacquea è enorme facciamo un'altra volta con pazienza antichi e rovine ci attiriamo per ultimo perché secondo me ho i pezzi non tre o quattro non mi ricordo esso visivamente se la galleria abbandonata poi vorrei capire sto 91 per cento perché non siamo senti qua sopra ah guarda qua c'è qui e qui vabbè dai non volevo farlo subito andiamo a farci la galleria abbandona non usiamo qua non ci debba essere più tizio infatti ma si dai mettiamo la live con una bella ciotola e poi vediamo tutto come succede che differenza è fortissima potresti premiamo in tanto ora risi che cosa succede non ho ma la 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 o di la la il la il la 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 il la 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 andiamo avanti benissimo apri questa porta sobbic però non si è tolto di povero e andiamo avanti ma quando abbiamo sconfitto ci siamo più saliti togliamoci la pulle si tolano andiamo a questa scena progetto arma parte 2 una pagina degli ultimi progetti armistilati alla regione trova le pagine mancanti avrebbe il progetto completo e quante pagine sono vabbè poi parleremo con urso andiamo avanti e no 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 adesso dobbiamo scendere da di qua giusto saliamo adesso si va nella mia allora arrivati qua questo se nemo di lana questo se nemo di lana no non si possa dire di sotto quindi non è questo quel 2 per cento quell'otto per cento che ci manca è necessariamente quello lì sotto bella no no niente abbiamo un illuso che sarebbero tutto bene riposo adesso che ci sono quelle questo è molto più facile hai visto cosa mi l'ha apparto qui qua c'è niente no è qua vediamo 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 cosa c'è qui qua vaga e allora ma lo fai a posto vabbè ci ha fatto scendere sopra non ci dovevo rispondere più niente fa siamo qua non 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 ok devo scendete il live avevo quella porta anche perché c'è quel peccettino di oh un salto torna indietro brava continua scende dobbiamo salire dopo lì lasciamo proprio la checkpoint al prossimo checkpoint ricompreremo la mappa il prossimo eh va bene sì no ma è giusto cambia comunque vabbè come sprecare le ricariche dai dai qua siamo e andiamo un senso al checkpoint io come ho fatto a non farmi male non lo so niente però ricarichiamoci allora scendiamo anche di qua e dobbiamo salire di là brava un salto non mi faa mentre con la altra pate non era buona questa si senti facciamocela senza perché a proposito stiamo attraversando perché faccio un altro ingresso se sono stupido se sono pollo ci sarà un perché si scende e si muore altra volta quello l'ho fatto con meno agilità stavolta non sono questa compiuta ma sono quasi caduti ce l'abbiamo fatta altro checkpoint praticamente lo sto affrontando di nuovo ok vabbè sotto ci siamo qui ma la pantone è lì possiamo la ma perché perché scusa non scende il gialli mi sveglio oggi quindi niente non ce n'è possibilità oggi il coordinamento occhio ma siamo quasi fatto niente non il doppio solto non ho voluto cominciare ce l'abbiamo fatta scusami devo subito dove il checkpoint vabbè allora non si può salire non Ho sbagliato Vabbè Tanto noi adesso ci riposiamo E saliamo con calma A proposito dobbiamo scendere Che siamo arrivati quasi a destinazione Scusami 97% Cosa è che abbiamo saltato Ah questo pezzo qua ce l'ha ancora Dobbiamo cadere di sotto e risalire Quanto c'è bisogno Proviamo E andiamo E anche le gallerie sono state completate Abbiamo trovato due semi E tutti se ci dov'è Di compensare di brutto La patena occidentale Abbiamo un 98% Siamo di capire bene Dov'è che non abbiamo girato Qui dentro non siamo stati A punto fa Qui dentro Grazie a tutti. Ah la ragazza che... 99,59% mi sta prendo... Dov'era che mi mancava tipo lo 0,9%? Ah Jeffy Street mi manca. Dov'era schifo va... 99,59%... Guarda che spiderina... Guarda guarda è questo veramente? Ah... Oh... no ah 24, l'altra volta non ho 12 20 su 24, no la ok e va per questo si vabbè troppo lento il pugno però mi fa essere più impreciso no vabbè troppo lento faccio una porcata con la con la corda si 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 ho deciso mi tento con la ho la frusta però uso i rugs ma perché non mi ha lanciato eeeh vabbè ma la smetti di vendermi da retano eeeh vabbè però non ci vanno mi sto seccando perché arrivo sempre a 23 su 24 eeeh vabbè eeeh vabbè non ci vabbè non ci vabbè no nient'io pere abbiamo sblocato qualcosa, andiamo a salire dove? fino alla sopra e sbloccare il quadro di ognuno andiamo a salire oh, allora mi stai venendo in giro a cosa anche noi mi stai venendo a fare no, giusto, non ci c'è niente no, non ci c'è niente ci vola 130, ma pingala ah, allora, cerca di essere qui collaborativo, dai ah, andiamo 100% perfetto allora, adesso dove dobbiamo andare alla miniera completiamoci la miniera ah, andiamo guarda mamma, sono un helicottero mia moglie mi guarda a rire ho sposato un deficiente non ti sento comunque, come se parlo? no, sono parlato ma non hai detto niente meglio cosa la meglio parola è quella che non ci dice wow ma siamo fatto un bel luogo voglio salire e ripartire e fare la stessa cosa dall'altro lato e voliamo fino all'ingresso delle miniera andiamo a dover guarda mamma, mi ha cambiato la punta di inquadratura guarda mamma, mi ha cambiato la punta di inquadratura guarda mamma, mi ha cambiato la punta di inquadratura guarda, scendiamo di qua e cominciamo c'è tanto da girare qua dentro andiamo, andiamo, andiamo facciamo un bel riparo No! No, sono bule sani. No, dove? Qua! Grazie. La mia domanda è, cosa sto prendendo tempo a fare? Dai però. Ma dove che spitrina ci si arriva? Allora, guarda. Oh no. ok martin garrick torniamo indietro vediamo qui mi sento perso un giro dai tocchi scusami e come dovrei fare a passare no veramente ok ma ok 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 conviene per niente tornare avanti di qua conviene tornare indietro scendere non appena questo secondo qui se possiamo andiamo di qua ciao check point più vicino e qua ci andiamo in caduta lì ciao ciao ok andiamo a prendere 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 quel potere è lì, si va bene lo so, se sono scemo dai su no ho sbagliato tempistiche allora qua non mi dovrebbe toccare niente se non sbaglio e neanche qui dovrebbe toccarmi niente infatti bastava non farsi prendere alla fretta e abbiamo preso un poster tutto sto casino per un poster vabbè scendiamo sotto andiamo all'altro lato e ci prendiamo quel seno guarda se attacco forse me la passo meglio qui come on bello quel quadrato nero che è scomparso all'ultimo ah niente vabbè 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 Sto rompendo i cabassisi, eh? Non so, non so che qua... Vabbè... E poi di qua la porta non me la... Non so, non so, non so, non so... Perché quello me l'ha distrutto e questo no? Ah, mi ha aperto la porta! Una volta che l'ho ucciso... Aspetta, di là c'era il... Passaggio inesplorato! Oh... Ah, e qua non si scende... Di là, da un altro lato deve andare... Quindi dobbiamo riuscire dall'ingresso... Ah, finiamo il giro, saliamo... Che entriamo di qua e andiamo a sinistra... Vabbè... Non c'è l'altro, vabbè... Pugliamoci... Vabbè... Vabbè... Che stiamo uscendo... Quindi non c'è niente di bisogno... Guarda que... Vabbè che stiamo uscendo... Ce la facciamo facile? Quei punti lì mancano e non so come arrivarci E anche come prendere quel pezzo lì Sono delle abilità che forse servono questa abilità qua che si sblocca forse con la seconda run Ci sono tre abilità qua, quattro abilità sopra e altre tre abilità qua Quattro abilità Ok E va bene così E' questa qua parte qui che non posso sbloccare Spesso perché qui ci sarà qualche altro premio e qua sicuramente un zelo Ok Andiamo a Geoffrey Street Prendiamo con Urs, vediamo Quattro abilità Quattro abilità Void Knight Is the story How do you like my Andiamo avanti Quattro abilità Quattro abilità Quattro abilità Quattro abilità Quattro abilità No, era sopra Quattro abilità Quattro abilità Quattro abilità Quattro abilità Quattro abilità Ed è sempre farta Quattro abilità Che d'ha Sri Quattro abrilità Me and aspects Come andري E vai Bello! C'è un numero da urso! Bah! Vabbè, l'abbiamo fatta! La base subacquea Da farci la prossima volta Anche la prigione, cavolo, quei tre Questo che non so com'è Come schifo arrivarci Come se dovessi mettermi nel tetto del Del ascensore E farmi portare su Vabbè Facciamo che ci salutiamo qua Vabbè Ci trasportiamoci Tanto dobbiamo andare alla base subacquea La prossima volta Per ultimo ci lasciamo lenticchia e rovina Per la base subacquea Cioè c'è tre trasporto delicato Guarda c'è da entrare qua C'è da girare Vabbè sarebbe questo il canale oceanico Sento appena arriviamo salvo Controllo che sia il posto giusto Passiamo sul checkpoint che si salva Il posto è giusto Ok il posto è giusto E poi come girarcelo Lo decidiamo la prossima volta Alla prossima Ciao ciao